Conosci i tuoi campioni! Jürgen Klinsmann tira i primi calci nelle giovanili dello Stuttgarter Kickers e macina reti dopo reti, arrivando nel 1984 allo Stoccarda. Qui va sempre in doppia cifra. Si guadagna la nazionale, con cui disputa gli europei del 1988 e conquista un bronzo olimpico a Seul. Nel 1989 approda l'Inter. È proprio in Italia che raggiunge l'apice della sua carriera. Vince il campionato del mondo con la nazionale e la Coppa UEFA con il club prima di trasferirsi nel 92 al Monaco. Nel 94 passa al Tottenham dove diviene presto un idolo prima di tornare in Germania al Bayern Monaco dove vince una Coppa UEFA e un campionato. Nel 96 è il capitano della Germania campione d'Europa ma la sua carriera si chiude dopo i mondiali di Francia 98 dopo una sciagurata esperienza alla Sampdoria e il ritorno al Tottenham. appese le scarpette al chiodo, si cimenta nel ruolo di allenatore.